Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vorrei parlarvi di One Piece. Vi ricordo che tutte le informazioni che vi dirò sono vere e potete trovare i vari link in descrizione. Dato che ci sono tante info non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Iniziamo con Big Mom. Sappiamo bene che la sua potenza ha giocato un ruolo fondamentale nella sua vita, ma è stata solo grazie a Strausen se egli è diventata un'imperatrice ed è quindi riuscita a creare quell'impero che tutti noi conosciamo, proprio perché era il cuoco che muoveva i fili da dietro le quinte. Infatti penso che Strausen abbia ancora molto da raccontare, mi è sempre sembrato un personaggio alquanto misterioso. Comunque sia da giovane Lilin era molto attraente, ma invecchiando vabbè l'avete vista. Big Mom ovviamente possiede tutti e tre tipi di hachi e possiede anche una taglia, ma è tuttora sconosciuta. Zeus doveva possedere l'epiteto vento del nord e la sua faccia doveva essere un po' più psichedelica e Prometheus doveva avere un grosso paio di baffi. Nonostante le carte dei due special homies di Big Mom ci siano, non c'è alcun riferimento a Napoleon. Charlotte Owen ha un corpo super robusto, per cui dovrebbe avere il corpo più robusto tra tutti i figli di Big Mom. Infatti non ha riportato quasi nessun danno dopo che è stato investito dalla nostra castello. Possiede l'acchi dell'armatura ed osservazione e sulla sua testa perde una taglia da 300 milioni di berri. Charlotte De Fuku. Egli nutre molto rispetto per Katakuri, tant'è da averlo proposto come nuovo capitano dei pirati di Big Mom. De Fuku è bravissimo a tirare su il morale della ciurma attraverso i suoi discorsi, ed è in grado di usare l'acchi dell'armatura ed osservazione, e possiede anche egli una taglia da 300 milioni di berri. Mondor possiede una taglia da 120 milioni di berri, ed Oda, prima di scegliere questo nome, aveva pensato a tanti altri, come per esempio Charlotte Parmesan, Charlotte Stilton, Charlotte Gorgonzola, eccetera. Smoothie va molto d'accordo con le sue due sorelle gemelle, ovvero Citron e Cinnamon, ed è per questo motivo che avvengono spesso ma date in missione assieme. Essa possiede sia l'acchi dell'armatura che quello dell'osservazione. Inoltre Oda, inizialmente, aveva pensato ad altri frutti per il dolce comandante, ovvero il Kaiu Kaiu no Mi, che vuol dire proprio il frutto, frutto frutto, va bene, e lo Shiru Shiru no Mi, che sarebbe il frutto succo succo. Charlotte Flampet è un normale essere umano e riesce a volare grazie a quello strano vestito che indossa, che sembra essere dotato del sistema del soffice palloncino, che le permette di aspirare grandi quantità d'aria fino al punto di gonfiarsi e levitare. Questa tecnologia è stata rubata da Big Mom in un certo paese, Charlotte Katakuri. Egli nacque su di una nave 48 anni fa, assieme ovviamente ai suoi due fratelli gemelli, ovvero Oven e De Fuku. Egli mangiò per la prima volta le ciambelle all'età di due anni e se ne innamorò. Un anno dopo Katakuri ebbe un grave incidente, mentre mangiava voracemente delle ciambelle. Se le infilò così tante in bocca che le sue guance si dilaniarono, lasciando un profondo squarcio ai lati della sua bocca. Ma nonostante ciò, egli continuava a mangiare ciambelle giorno dopo giorno e all'età di 5 anni mangiò il frutto moci moci. E quando ebbe 10 anni dopo l'incidente che colpì la sua sorellina Brulé, che all'epoca aveva solo 5 anni, decise di coprirsi la bocca e di costruire la sua figura da un uomo perfetto ed imbattibile. Egli possiede una taglia che ammonta ben un miliardo e 57 milioni di berri ed è in grado di usare tutti e 3 tipi di Aki, e il suo Aki dell'osservazione è così avanzato da permettergli di vedere nel futuro. Inoltre Oda aveva in mente un altro design per il dolce comandante, e doveva possedere un altro frutto, ovvero il Kanakana no Mi, che sarebbe il frutto farina farina. Abbiamo finito con la famiglia Charlotte ed ora passiamo alla famiglia Vinsmoke. I Vinsmoke sono classificati come umani modificati, infatti la modifica al loro fattore di lineaggio ha reso la loro pelle robusta come il ferro e facilmente malleabile. Questa trasformazione non è avvenuta subito, ma durante gli anni, cioè mentre crescevano. La modifica al loro DNA è la ragione per cui hanno i capelli di colori diversi dai loro genitori. L'epiteto di Niji sarebbe dovuto essere Wind Blue, dato che Oda aveva pensato alla velocità come suo potere. Niji possiede l'abilità di imitare la voce di chiunque, impostando le sue corde vocali. Inoltre, inizialmente ci sarebbe dovuto essere un quinto fratello Vinsmoke, di nome Goji, e doveva essere identico a Yonji. Vinsmoke Reiju è uguale ai suoi fratelli per quanto riguarda la modifica genetica, ma grazie a sua madre riuscì a sviluppare i sentimenti. Questo perché Sora passava grandi quantità di tempo con sua figlia, cercando di farla crescere come una persona normale. Per quanto riguarda gli altri fratelli Vinsmoke, dal momento che Sora era per la maggior parte del tempo in ospedale ed in seguito morì, non ricevettero la stessa educazione ed essi diventarono ciò che sono ora. Reiju era stata pensata per essere più giocherellona e seduttiva. Il suo soprannome sarebbe poi dovuto essere Cutie Pink, invece che Poison Pink. Ora passiamo ad un'informazione che mi ha sorpreso e non poco. Parleremo di Morgans. Infatti, egli non è un uccello di una razza particolare, bensì è un normale essere umano, che però ha mangiato un frutto del diavolo di tipo Zoan, ovvero il Tori Tori no Mi modello Albatross. Morgans è sicuro che il prossimo re di pirati sarà qualcuno della peggiore generazione. Sembra essere i buoni rapporti sia con il governo mondiale che con la Cyperpol. Dal momento che gode di una certa influenza come manipolatore di informazioni. E come ultima informazione, ma non meno importante, il compleanno del figlioletto di Capone Gag Bag, ovvero il piccolo pezzi, è il 22 gennaio, quindi non dimentichiamoci di fare gli auguri. Questo video informativo è finito, però vi ricordo che molte di queste informazioni già si sapevano e faccio questi video soprattutto per informare chi segue One Piece da poco. Seguitemi anche su Instagram se vi va, troverete il link in descrizione e nel primo commento. Come sempre vi ricordo la collaborazione con Pumpling, link in descrizione e usando il codice ilGUN91 avrete diritto al 15% di sconto. Come sempre vi chiedo di farmi sapere la vostra riguardo. Non dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Legacy e noi ci sentiamo in un prossimo video.